ciao ermes anei ciao sul tetto della baracchetta coco cocci codino alto ciao amore ciao ciao buongiorno a tutti ciao ciao piccoli qui c'è romeo e qui c'è meli arrivano dal bosco laggiù lulli esce dallo chalet buongiorno a tutti allora prendiamo le chiavi chi è che tossisce per favore non scherziamo ciao ciuffi no è magda buongiorno meli buongiorno chi c'è lì chi c'è qua dal buchino chi c'è una gnolina una gnolina vi grattate tutti stamattina ciao ciuffi anche tu con la sorellina ciao ciuffi no buongiorno ciao pepina ciao ciao allora volevo proseguire un po di video senza fare tremolare troppo il mio cellulare ma non riesco che non riesco a aprire bene ciao ciuffi come mai qui allora non si litiga ci penso già io a litigare col mondo in questo periodo eh joy c'è joy là dietro la rete una sansa junior la vedete ciao dupino ciao silvestrino buongiorno lui sempre pacato ciao lulli buongiorno crueglia ciao tai buongiorno piccolina piccolina è tutto relativo chi c'è qua gli altri due fratellini neri mamma mia che nane che sonno come vi capisco e come vi invidio credetemi che vi invidio Nizza brava tanta pipì sul giornale vero Kika eh vabbè iniziamo a far qualcosa spero che questo video vi porti tanta serenità quanta ne ho io a stare qui belli loro sono belli i minini dell'oasi sono i più belli di tutto il mondo sono tutti belli ma questi sono speciali guardate Eduina Gioi tu rimani nanetta eh Frodo sta gonfiando sembra un un palloncino peloso ciao Eduina sei bellissima tu vabbè facciamo qualcosa Milo vieni giù ciao a tutti buona domenica un abbraccio e grazie che ci siete a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti